Polarjet allo seccato in leggero vantaggio, avvicinato all'esterno presto da Marahill che si porta gradatamente a condurre all'imbocco della curva di fondo. Al suo esterno si propone Ferjan, in terza posizione all'interno rimane Polarjet, a precedere Legend Oak con in coda Maya Desnuda. Lungo la curva non avvengono cambiamenti e Marahill prosegue sempre in vantaggio, tallonato all'esterno da Ferjan che ha all'interno Polarjet. Quindi Maya Desnuda e Legend Oak, tutti molto vicini all'ingresso in retta di arrivo, dove Marahill figura al comando allo seccato, inseguito da Ferjan che ha all'interno Polarjet per linee interne lungo la corda, cerca di salire Legend Oak, mentre in coda all'attesa Maya Desnuda. Siamo a 400 dal palo, Marahill sta allungando, ora sotto la minaccia sempre di Ferjan, a largo dei due cerca di avanzare Maya Desnuda, più indietro Polarjet. Siamo nel tratto finale con Marahill attaccato sempre da Ferjan, a largo dei due Maya Desnuda, nel tratto finale è Marahill che si impone, mentre più difficile è il posto d'onore che dovremo andare ora a rivedere con le immagini che la regia ci dovrebbe riproporre. Marahill ancora Antonio Ferramosca in avversario, ancora Scuderia Chimax, 3 su 3, numero 2 dello schieramento, al secondo posto il 5 di Ferjan, subisce l'attacco esterno di Maya Desnuda, i due sono molto molto vicini sul palo, quindi è meglio aspettare il risponso del giudice d'arrivo.